Allora, voglio fare questo video per dare il benvenuto al Mestre Padaglino e sono sicuro veramente che farà un grande lavoro per riportarci dove meritiamo di stare e sono sicuro che con gli acquisti di cui si stanno parlando potremmo fare grandi cose e veramente farci temere tanto. Benvenuto a Mestre Padaglino e buon lavoro e Forza Lecce, sempre e comunque.